O chiudiamo o sicuramente ci saranno delle perdite gravose. Neanche il tempo di festeggiare l'estate d'uscita dal Covid con presenze negli alberghi persino superiori al periodo pre-pandemia che il turismo del litorale veneziano si trova a fronteggiare un'altra emergenza. L'impennata delle bollette è tale da sconsigliare il prolungamento di stagione, troppe spese. Un incremento energetico che varia sull'ordine del 300-350%, gas che sfiora 450-500% di aumento con tutti poi gli aumenti correlati dai generi alimentari alle lavanderie e questo ci preoccupa in maniera particolare perché non sappiamo come comportarci. È pur vero che la stagione è stata eccezionale ma da entrambe le parti ricavi cresciuti e costi cresciuti ma in maniera esponenziale. Con picchi da tutto esaurito in molti fine settimana della parte centrale dell'estate, a Jesolo l'occupazione media degli alberghi da maggio ad agosto è stata del 75,4% più 7% sul 2019. 38% di italiani, 45% di austriaci, tedeschi e svizzeri e un 12% dell'est Europa. Ma le circostanze ora costringono a tirare il freno. Nella sola Jesolo operano 370 alberghi con 6.000 dipendenti e per loro se si taglia un mese salta anche la mensilità. Noi chiediamo sicuramente un aumento di quello che è il credito d'imposta su questi aumenti, crediamo di rianalizzare quelli che sono gli extra profitti derivanti dal gettito IVA, chiediamo degli aiuti che possano essere equiparati agli aiuti che sono stati dati nel periodo Covid perché qui veramente si parla della sopravvivenza delle singole imprese e poi della località nel suo insieme.